Ha interessato il parco regionale del Monte San Bartolo, una delle aree naturali più belle e importanti della costa adriatica situata tra Gabic e Pesaro. L'incendio boschivo, che divampato questa mattina intorno alle 7, si è sviluppato poco a nord della località Castaldimezzo. Favorito dall'elevata pendenza e dalla densità della vegetazione, si è propagato nella falesia sottostante, finendo per interessare una superficie di circa 3 ettari. Le operazioni di spegnimento sono state molto complesse a causa dell'inaccessibilità dell'aria, in particolare per il crollo di un tratto della strada che rende irraggiungibile anche a piedi il noto ristorante a mare. Decisivo è stato l'intervento di due Canadair arrivati sul posto a turno agli 11, che con ben 27 lanci di acqua e ritardante hanno rapidamente estinto le fiamme. Sul posto ha operato anche il personale del Dipartimento della Protezione Civile, del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco coadiuvato dai volontari del Gruppo Comunale di Pesaro. Decisivo il contributo della Capitaneria di Porto, che con due motovedette ha permesso di monitorare e coordinare l'intera attività da mare. Sono ancora in corso invece le attività investigative curate dal Nipaf e il Nucleo Investigativo di Polizia Forestale, anche attraverso l'analisi chimico-fisica-biologica di alcuni oggetti prelevati. Ma si pensa che l'incendio possa essere di origine dolosa. Il comandante provinciale del Corpo, Maurizio Cattoi, ha sottolineato l'eccellente collaborazione e sinergia tra le forze in campo, che ha permesso di fronteggiare e risolvere in poche ore l'emergenza.